benvenuti nel dungeon bird podcast benvenuti a tutti nel nostro dungeon benvenuti avventurieri nel dungeon delle barbe benvenuti a un nuovo livello bene ragazzi siamo di nuovo qui nel post la nostra puntatona con la puntatona sui mmo e c'è una puntata e vi ringraziamo di del vostro calore per la prima che speriamo vi siate ascoltati e per le puntate alla puntata focolare che quella la via di mezzo che ci fa arrivare da un livello all'altro vi siete scaldati al focolare avete sentito come abbiamo ampliato la prima ci siamo lasciati andare ad ampliare la prima puntata e vi abbiamo preparato per questo secondo livello il termine livello si adatta bene a quello che di cui andremo a parlare oggi ovvero i giochi online in rete gli mmo nello specifico arpg i giochi di ruolo online che sono andati un po in decadenza ultimamente si sono evoluti in qualcosa di diverso e sostanzialmente come potremmo definire il cambiamento è stato nell approccio è stato approccio è stato economico è stato in un voler mantenere la sigla mmo e volerla dare un po appiccicarla un po tutti quando una volta era solamente per prendiamo cosa prendiamo prendiamo world of warcraft come suo massimo esponente insomma si sta per massivoli multiplayer online un gioco la definizione è un gioco in rete in grado di supportare centinaia o migliaia di giocatori contemporaneamente connessi tramite internet tipicamente ambientato un gigantesco mondo virtuale persistente è difficile world of warcraft è effettivamente così un mondo persistente sempre online in grado di supportare svariati giocatori ma non lo so league of legends è un mmo no league of legends siamo sicuri che non lo è perché è un moba è un gioco dove la partita non c'è un mondo ma c'è una partita che inizia e finisce anzi addirittura proprio la mappa è definita quindi semplicemente gli eroi a devono sconfiggere la base degli eroi b the division è un mmo chi scusa the division the division viene classificato mmo ma non è un a mio parere io quando devo proprio mi fa proprio arrabbiare perché credo che la scritta mmo tenga lontani tenga lontani molte persone perché mmo sta a significare per chi lo legge qualcosa in cui io mi devo impegnare tutti i giorni online ecco questa è la definizione vera che uno vede in mmo devo giocare con altre persone obbligatoriamente e obbligatoriamente online mentre un the division a cui io sono parecchio affezionato anche il mio il mio nick arriva da lì poi è tutta una storia che non la passiamo in cinque minuti ma racconteremo in un'altra puntata magari ce la prendiamo e the division di fatto viene considerato mmo semplicemente per il fatto sì che ci siamo in tantissimi giocatori ma ci possiamo trovare poi solo in una lobby come in destiny cioè solo nei punti di raccolta diciamo dove c'è il mercante e tutto il resto quando aprite quella porticina voi lui il gioco vi crea una vostra istanza dove potete incontrare per le strade altri giocatori ma potete fare gruppo al massimo con quattro quindi c'è di fatto è un gioco co-op tra l'altro è un tps è un gioco a copertura un gears of war ok però nessuno dice che gears of war è un mmo e questa cosa cosa ha portato ha rovinato secondo me un pochino il brand perché è godibilissimo in single player ma proprio l'ottanta 90 per cento del gioco poi ha questo suo 10 20 per cento prettamente multiplayer ma non mmo ma semplicemente bastate che trova basta che trovate altre tre persone così ha un contenuto che è riservato è diciamo molto hardcore se lo si vuole fare da soli ma ancora una volta se lo lascia fare da soli e io le migliori amicizie le ho fatte quando trovavo altre persone da sole che si ostinavano a fare queste parti prettamente multiplayer un mmo la definizione che darei io è sicuramente un mondo online persistente quello penso sicuro questo è un vero mmo però è un mondo gigante mondo quindi davvero grosso stiamo parlando di un world of war cioè un the division è una città una porzione di una città molto bella molto grande ma world of warcraft è un mondo genshin impact l'ultimo uscito è un mondo anche lui magari ne parliamo dopo perché leggermente è parecchio particolare diciamo che l'mmo più mmo di oggi potrebbe essere un black desert online chiaro che è un gioco comunque del 2015 si però supportato è uscito un aggiornamento tipo ieri aggiungono classi ogni e regioni non lo so però allora questo l'ho provato perché ho voluto provarlo era gratuito e intanto ha un modello di pagamento totalmente differente ecco di questo volevo arrivarci comunque è un mondo gigante ed è un mmo perché purtroppo infatti quando lo riconosci perché appena inizi ci sono centinaia di giocatori a schermo tu non sai nemmeno cosa devi fare e tutti stanno correndo a fare la stessa quest quello è un mmo ecco un'altra cosa che aggiungerei alla definizione è la community in un mmo puoi interagire con gli altri giocatori in diversi modi parlandoci tramite una chat diventando un amico sfidandolo in pvp unendovi a una gilda quindi facendo un gruppo se un mmo non c'è una gilda non c'è un modo di fare gruppo quindi di poter fare ride di poter fare queste cose secondo me già non dovrebbe mantenere la scritta mmo ma non in rispetto sia di chi gradisce il genere ma soprattutto in rispetto di chi si spaventa quando vede la scritta mmo perché molti io per primo fino a voler provare black desert stupito dalla grafica perché ragazzi mi ha portato la grafica volevo vederlo ho detto devo vedere questo mondo e non avrei mai toccato un mmo perché gli mmo sono richiedono comunque parecchio impegno per essere giocati e soprattutto sociale e per giocarli se non c'è una community che ti tiene dentro non riuscirai mai a terminarli obiettivamente per arrivare ai livelli più alti hai bisogno di far parte di una gilda o comunque di avere un sostegno sì se non partecipi vieni man mano lasciato indietro io immagino lo immagino perché appunto non ho affrontato più di tanto la situazione che ci siano proprio già gilde per chi gioca saltuariamente insomma qualcuno che si aiuta tra di loro perché vieni cacciato insomma da un gruppo dove che si trova tutti i giorni e tu non ci sei perché non hai l'orario perché non te lo puoi permettere infatti si stanno spostando gli mmo odierni verso un gioco più in solitaria sì lasciandoti l'opportunità hanno capito prima di tutto va bene il modello economico mi è detto che ne parliamo dopo parliamo solo di gameplay il vecchio mmo non ti permetteva di godertelo da solo allora sì lo potevate comprare potevate giocarci ma prima o poi più molto più prima che poi vi dovevate per forza mettere con qualcuno perché in fondo al dungeon non ci arrivavate ok il mmo di oggi che secondo me è assolutamente proprio rispecchia genshin impact appena uscito recentemente quello con simil zelda proprio che ne prende tantissimo piato sostanzialmente c in realtà allora io l'ho giocato abbondantemente una cinquantina di ore non ho terminato la trama però sono arrivato a livelli abbastanza alti e prende alcune meccaniche ma ti posso dire che non è una coppia ecco è proprio il primo impatto sia grafico sia di alcune future ma è su ha un suo carattere secondo me non possiamo dirgli che che ha copiato ecco ha preso spunto e ha omaggiato questo sì non credo infatti che se no nintendo avrebbe fatto subito l'obiettivo è chiaramente di rimandare sia con lo stile grafico che con il gameplay a quel gioco lì il primo impatto credo di catturarti dopo tutto il resto si costruisce un suo mondo solido e il problema suo è che ha un modello è il suo proprio il modello economico cioè completamente gratuito completamente ma non ti mette un sistema di skin ma bensì anche skin ma personaggi e il problema è che ogni personaggio è diverso dall'altro e quindi c'è proprio una tier list proprio come un deck di magic o come un qualunque altro gioco che abbia un tier e quindi se tu non hai il personaggio che sta nei tier e non ti crei il party con quei personaggi non riuscirai ad andare più in là di tanto ah ok quindi c'è un paywall esatto è un free to play c'è chi lo ha finito completamente free perché sai come fai a dirlo perché se tu sei fortunato per assurdo apri queste box no che tu se ne apri una hai la possibilità di trovare o un'arma o un personaggio con la rarità dall'uno dal bianco classico verde blu viola e oro però il personaggio ti viene garantito solo se compri 10 box se apri 10 box in un botto ok quindi tu potresti per assurdo comprare 10 box singoli e trovare 10 personaggi come trovarne 0 invece se tu prendi le 10 box hai il personaggio garantito quindi cosa succede che tu da free to play ammucchi queste 10 box poi le apri e ti trovi il tuo personaggio il personaggio si divide sia per classe che per elemento quindi potrebbe essere un fuoco arciere come un fuoco arma pesante ok quindi tu ti fai il tuo classico party da 4 che switch in tempo reale quindi gameplay è davvero bello dinamico dinamico mosse bellissime mondo bellissimo proprio bello un po come tutte gli mmo leggermente ripetitivo ma non ci fai caso ma se tu per caso avessi la fortuna di trovare subito i personaggi che sono in meta saresti a posto gli livelli dopo ti si presenta il problema di fare i livelli molto ti è capitato di beccare un personaggio in meta sì sì sono stato quindi c'è c'è la possibilità non è sì sì non è nascosto assolutamente dopo poi non importa ad avere richiamiamoli fino allora i tier lì vanno dallo 0 facciamo al 5 ma anche più giù no secondo me un tier 2 un party fatto di tier 2 tier 3 va tranquillamente a in game senza problemi quindi rimane piuttosto onesto il problema sono i doppioni sono personaggi che non ti piacciono perché diciamocelo uno non vuol giocare con un tier 2 che non gli piace obiettivamente fa parte del gioco di un mmo soprattutto rpg giocare il personaggio che vuoi giocare quello il problema per me è stato se io non avessi trovato nelle prime box subito un personaggio che tra virgolette non mi ricordo se fosse era comunque forte non era lo zero ma proprio mi piaceva tantissimo e quindi cosa succedeva che quando dovevo perché quando tu ti muovi hai un personaggio solo poi quando a parte il combattimento compaiono magicamente gli altri tre ok no scusami perdonami non compaiono tu switchi da uno all'altro come se ti cambiassi skin tra virgolette in tempo reale giochi sempre un solo personaggio quindi l'ottanta per cento del tempo avevo davanti allo schermo il personaggio che mi piaceva proprio bello ok con lo spadone con questa ombra che gli usciva dalla schiena era bellissimo se io avessi trovato la bambinetta da quel campanellino da 50 centimetri sul collo non ce la facevo giocare più di due ore e cioè è quello il problema che se il mio party è fatto da e poi sappiamo benissimo che gli orientali si vanno giù pesanti hanno tutto un loro concetto di arte a volte vengono molto incontro e in Genshin Impact lo hanno fatto soprattutto sui nemici stanno venendo questo è un altro argomento interessante credo che l'oriente venga molto a mescolarsi con l'occidente perché ha capito che deve farlo per prendersi più utenza però non cambiarono mai idea sulle loro pettine sui loro fiocchettoni loro ci devono mettere sempre qualcosa tipico della loro fantasia ragazzine un po' troppo ine si si è stato accusato un pochino di tra virgolette di fanservice cosa che fa tranquillamente anche Black Desert ragazzi no no ma il fanservice non mi disturba però a volte ci sono dei personaggi che sono un po' troppo infantili si per assoluto il personaggio più forte di Genshin Impact è questo ragazzino un po' effemminato non so con la calzamaglia che ha questo berrettino da pittore francese e tira con l'arco delle sberle incredibili però non riuscirei a usarlo eppure Tier Zero e tutti lo vogliono anche l'occhio vuole la sua parte dai si per me è importantissimo io non riesco a giocare un gioco dove non riesco un minimo a impersonificarmi o ad apprezzare il personaggio che sto comandando anzi tu come ti trovi con questa io apprezzavo degli MMO proprio la possibilità di crearti il tuo personaggio da zero fino a qualche anno fa erano gli unici giochi dove tu potevi effettivamente scegliere come era la tua faccia la tua altezza tutta una serie di cose quindi era la parte che mi piaceva di più del gioco crearmi il personaggio per me è fondamentale e molti lo criticano perché tutti adesso lo vogliono fare e il problema cos'è? che se tu crei un gioco con una trama devi o metterti lì a dire ok io devo essere pronto ogni filmato che si vede mettere il personaggio che l'utente mi ha scelto e non posso più scrivere il personaggio come lo voglio io è un problema per uno scrittore secondo me è dover sentirci dire dal suo capo guarda che la tua storia deve avere un personaggio che può essere uomo donna vestito da coniglio come vestito elegante e cavolo se mi stai scrivendo la storia una storia come Jakub per dire il personaggio non può non essere lui cioè certi personaggi cosa che magari in The Witcher non vorrei dire una cavolata ma secondo me fosse stato un guerriero qualunque non c'era niente di male gli davi quel minimo tipo le tue spade obbligatorie però lasciamelo fare come mi pare a me sono due tipologie di giochi ad esempio Dragon Age tu puoi crearti il personaggio come vuoi la storia te la costruisci tu però lì è pensato per essere così e c'è anche un team di scrittori che è molto bravi che l'hanno gestita bene e lì addirittura la riscrivono per ogni razza ti ricordi quello è un giocone perché beh ma attinge da Dungeons & Dragons e quindi io rimasi incantato da Dragon Age Origins perché le prime due ore erano diverse per ogni personaggio c'è la storia dell'elfo che le ho fatte tutte anche io tutte c'è la storia dell'umano che può essere nobile o povero mi sembra anche vero oltre ad essere diversa era diversa se sceglievi il diverso tipo dello stesso personaggio e poi tutti si radunavano al campo di battaglia se ti ricordi arrivavi lì avevi il tuo pezzo di due ore diverse e arrivavano lì sì e poi potevi crearti la tua storia con i diversi personaggi potevi farti gli amici o nemici giusto scoprire le loro sottotrame incredibile mi era piaciuto tantissimo è uno dei miei giochi preferiti ed è un approccio di storytelling dove tu sai che vuoi fare la storia diversa per ciascun personaggio in base anche alle risposte che vai a dare nei dialoghi sì sono spariti sono spariti anche quella ormai la promessa di darti un vero cambiamento con il dialogo tutti quelli che sono venuti dopo e che ti hanno detto che l'avrebbero fatto era poi un falso era un allungare il brodo non so se tu hai fatto cyberpunk io non l'ho fatto ancora non l'ho ancora fatto non sto aspettando che che scelga scenda di pezzo e che risolvano i bug quando succederà questo è stato uno scandalo e hanno voluto forzare la mano nel senso di farlo uscire nel momento in cui avrebbero guadagnato di più oppure magari non hanno imparato niente da No Man's Sky e da altre ecco parleremo di di Anthem poi perché voglio voglio citare morto eh lo sai non ce l'hanno fatta che io sappia l'ultima notizia è che gli investitori non hanno voluto ma era chiaro era chiaro fin dall'inizio perché loro hanno detto sì lo sistemeremo ma era solo un modo per non rimborsare subito i 70 euro o 69 quanto costava dei preorder vabbè altre storie comunque morale quel gioco ti dava una vera scelta perché se tu dicevi così succedeva così e ti perdevi un pezzo e è proprio come un libro game di una volta che dovevi tornare indietro al capitolo precedente e se avevi fatto una scelta che non ti era piaciuta e aggiungerò fu il primo gioco che mi fece apprezzare i DLC se ti ricordi io mi ricordo esattamente che il concetto di DLC apparve proprio con Dragon Age Origins un mezzo scandalo perché scoprirono che il primo era già nel disco o una cosa del genere però fu il primo proprio a dire io vi porto un contenuto in più oltre al gioco normale erano contenuti di qualità soprattutto quello grosso adesso non ricordo più il nome adesso non mi ricordo però era gigante cioè era un 2 era travestito da DLC ma era un 2 era veramente enorme sì anche perché è un gioco che avevi piacere di continuare a giocare perché ci investi ci investi parecchio perché poi come dicevamo intrecci dei rapporti con gli altri personaggi alcuni di questi anche diventano romantici quindi era è un capolavoro dal punto di vista del videoludico della trama di come svilupparlo poi dai seguiti non sono riusciti a ottenere la stessa cosa ma non erano così male anche lì la critica ormai il giorno d'oggio siamo noi utenti che ci facciamo sentire anche quando non c'è bisogno sì però il problema alla base era che la storia del primo era troppo più epica rispetto a quella di successivi e quindi però a volte non ti sembra di essere un po' come Misery non deve morire cioè l'utenza cioè alla fine il prodotto non è nostro ok io quindi un pochino mi arrabbio quando succedono quando ci sono i fan proprio accaniti della serie oddio mi hanno fatto questo oddio mi hanno rovinato questa cioè il prodotto non è tuo primo ok lo ha scritto qualcun altro e qualcun altro ha un ordine ha sia delle idee artistiche e degli ordini commerciali che deve seguire quindi se lui decide che il prodotto deve andare così non sta a te non hai il diritto di lamentarti al punto di creare un caos di un'onda che gli deve tornare indietro della serie ritiralo e riscrivimelo non deve essere accettato ti ricordi Mass Effect 3? ah sì ma anche appunto Dragon Age che hai citato il 2 è un prodotto gradevolissimo ah sì ma io l'ho finito l'ho giocato e rigiocato è un altro di miei giochi però è massacrato come Mass Effect 3 non obiettivamente è un gioco inferiore anche perché ok non è cioè evidentemente non era il vero Dragon Age 2 era un DLC un'espansione perché è ambientato in una città solo una città non è fatta in maniera completa questa città perché tu ti spostavi da una parte dell'altra città con dei passaggi rapidi quindi e poi c'era tanto tanto riciclaggio ma tanto io mi ricordo che sta caverna era sempre quella ti cambiavano il punto di entrata e il punto di uscita ma la caverna era sempre quella quindi ti trovavi a fare una quest diversa nello stesso stage riciclato all'infinito sì ti prendo questa questa cosa per riagganciarmi al discorso MMO e alla mia prova con Black Desert online vorrei provare a riassumermi questa mia esperienza in un vero MMO perché quando tu lo avvii cosa succede ti ritrovi davanti al primo problema MMO ovvero migliaia di schermate di informazioni a schermo che lampeggiano destra e sinistra l'evento è partito Giampiero è arrivato a livello 38 tu ancora non sai dove muoverti e lui ti sta riempiendo di informazioni e quindi hai il primo muro e poi corri tutti corrono 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 perché sei all'inizio e quindi i giocatori il mondo è enorme ma tutti sono nel punto in cui tutto inizia quindi tu sei veramente un attimino scioccato ma quando riesci ad uscire da questo ti sforzi perché il primo istinto è me ne vado per uno che non che non sa cosa sta io ho fatto esattamente come abbiamo raccontato la puntata scorsa per il signore gli anelli ho chiuso il libro l'ho disinstallato e poi dopo due giorni ho respirato e ho detto no io sono appassionato e quindi ho detto no io voglio vedere che cos'è Black Desert Online lo riaccendo tolgo tutte le schermate che mi danno fastidio perdo un'ora e mezza seriamente di tutorial per togliere le schermate sembrava un software di programmazione ok sembrava Windows 98 quando si buggava che si aprivano mille finestre veramente finestre su finestre in trasparenza da togliere e chiudere a mano riesco a passare queste due ore e cosa mi si presenta davanti agli occhi uno dei mondi più belli che io abbia mai visto nei videogiochi cioè veramente sono dalle due ore che ho chiuso e mai più toccato sono passato a cento e passa ore in cui io vi dico solo che mi sono fermato quando mi sono reso conto che il gioco stava esagerando perché le prime quest erano uccidi dieci volpi e ho chiuso che era uccidi quattromila Trent e quando dico quattromila intendo che non dovevi uccidere seriamente quattromila ok quindi c'era un contatore siamo arrivati a livelli folli è vero che il tuo livello di personaggio era un altro però le quest si racchiudevano molti in uccidi n personaggi però torniamo il suo punto di forza io perché molti appunto lo abbandono immediatamente il mondo è un mondo tutto diverso non trovo una texture riciclata ed è vivo in una maniera esagerata le città l'ambiente cioè camminare in questo mondo è stata una roba impressionante le distanze e un'altra cosa che mi ha fatto proprio impazzire è stato il primo gioco dove distanze e dimensioni e peso sono percepibili a schermo cioè tu quante volte ti guardi un palazzo e dici non hai la percezione che sia alto quel palazzo in black desert hai la percezione addirittura di tu in quanto barbaro sei più alto di un umano normale cioè lo percepisci proprio di quanto la tua spada sia più grossa di quella di un goblin è impressionante questa cosa gli orchi quando vai con creature grosse cioè tu li guardi e dici ma è veramente grosso ti rendi davvero conto è uguale alle distanze a cavallo tu cavalchi cavalchi ma non è come Red Dead Redemption che cavalchi nel west quindi non c'è niente ok sono solo l'erba e i fiumi lì c'è tutto se passi in mezzo a una città che viene assaltata poi per l'amor di via magari un evento scriptato che continua ad andare cioè il troll continua a tirare le pietre contro la città però tu ci passi in mezzo e rimani a bocca aperta e ogni singola razza è differenziata cioè se tu incontri 100 goblin ogni tu riesci a distinguere il mago dal guerriero il guerriero dal capo guerriero il capo del guerriero dal generale e a loro volta il generale con un vestito il generale con un altro quindi ti ritrovi davanti a 100 modelli di goblin di cui ce ne sono almeno 20 varianti ok e questo al tuo occhio fa 20 varianti anche di mosse ok si si hanno curato molto i dettagli è una cosa è coreano e hanno fatto un lavoro da pazzi cioè tu trovi un villaggetto nel nulla che non serve a niente se non a comprarti una casetta magari lì curatissimo con dei dettagli che non hai visto in nessun altro villaggetto prima ma che si sono sbattuti a fare perché tu prima o poi lo incontrassi ok magari i 100 milioni di giocatori non l'hanno mai visto quel villaggetto lì sì sì chiaro mi ha impressionato e le ultime due altre cose che mi hanno impressionato sono il mare e il deserto allora tu in questo mondo è un mondo veramente immenso montagne da scavare cioè io a un certo punto giocavo solo per vedere il mondo perché purtroppo se non livelli non riesci ad accedere ad alcune parti del mondo ok perché i nemici sono è di quei giochi dove tu puoi andare ovunque però attenzione che in quel posto lì il mostro è di livello tot chiaro quindi non è di quelli che livellano con te thinking bell ma c'è sto deserto nero eh sì e il deserto la chicca del deserto qual è ci arrivi dopo 80 ore abbondanti è che è un deserto quindi addio mappa e comincia ad avere sete ok quindi tu come metti pieni nel deserto sparisce la mappa non hai più riferimenti ce li hai solamente visivi e hai le oasi cioè quando tu vedi un oasi impazzisci perché dici cazzo posso respirare un attimo lasciatemi un attimo appoggiare il cavallo compro due pozioni e riguardarmi intorno perché devi capire dove stai andando quindi all'inizio te ne stai sui bordi poi pian piano dici vado dentro al deserto se arriva una tempesta sono cazzo perché perdi l'orientamento vedi una guglia in lontananza e hai questa sensazione di deserto cioè è impressionante anche qui come le altezze ti danno il problema è che arrivare ad approvare questa sensazione ti serve 80 ore di pazienza è questo il problema ha una soia alta si è stessa cosa per il mare ha praticamente dentro di sé un Sea of Thieves inglobato perché l'oceano è immenso con tanto di isole e tanto di mostri marini tanto di imbarcazione che diventa tua che ti serve un equipaggio quindi da solo fai fatica ti serve più gente eccetera eccetera però ancora lì te la lascia comunque gestire da sola fai solo più fatica questo è il mio io avevo sentito che aveva un grosso problema di colpei to win allora io devo essere onestero ho beccato in un momento di anniversario in cui mi ha aiutato parecchio mi dava cose a tempo e quindi non sono l'ho sfruttato in quei mesi era un evento bello grosso e in effetti potrebbe essere che però credo che anche oggi abbiano cambiato questa cosa cioè ti danno parecchie risorse all'inizio mentre magari quando il gioco è nato volevano che tu comunque perché credo che abbiano cambiato modello di di economico durante il tempo adesso sono passati a lo compri ed è tuo per sempre però puoi comprare cose in game capito ecco questo ci riporta all'argomento di cui volevamo parlare ovvero il la monetizzazione che è cambiata nel tempo di abbonamento a nuovi modelli un tempo tu compravi prima di tutto compravi la coppia fisica di world of warcraft che costava 50-60 euro liscio in più non è che avevi pagato 60 euro e giocavi dovevi pagare altri non so quanto erano 20 euro al mese di abbonamento al mese per continuare a giocare per continuare a giocare poi ovviamente sì c'erano espansioni aggiornamenti quindi quei soldi dell'abbonamento servivano a andare a pagare i costi in teoria questo era quello che dicevano poi progressivamente sì gli MMO si sono spostati verso un sistema pagami il gioco pagami il gioco free to play pagami il gioco e boom sì però non riuscivano a stare in piedi perché comunque obiettivamente ci sono dei costi e del problema maggiore degli MMO è tenerli in piedi esatto e il problema cos'era? che dopo era che tu hai investito in uno cioè tu compri un single player lo finisci ti senti appagato lo puoi mettere da parte dire che non hai buttato i suoi soldi ma se uno investisse per anni e anni mese dopo mese nel suo abbonamento come fa a saltare da un MMO all'altro ci pensa non due volte ma cento volte certo e quindi uccide il nuovo arrivato che non riesce a mettersi sul mercato e alla fine cosa è successo che sono quasi tutti ormai o free to play oppure pagami un ingresso pressoché ridicolo anche vogliamo prendere il quello che voleva essere il diretto concorrente è stato Elder Scroll no? tu l'hai provato? sì l'hai pagato e poi era tuo fine vabbè DLC devi comprare sì sì l'ho comprato l'ho pagato e poi era gratuito non c'era nessuna ovviamente ci sono tutte le skin ci sono tutti i contenuti grafici oppure non so il cavallo con l'armatura scintillosa però vuole lasciarti giocare da solo il gioco lo puoi giocare da solo cioè lo puoi giocare tranquillamente pensa non sei obbligato a comprare nulla e sono un e hai più pubblico e secondo me è il sistema migliore per un MMO sì anche questi di Black Desert hanno dichiarato che il prossimo sarà una bomba sarà un Black Desert quindi con tutto quello che di buono ha ma molto molto più focalizzato sul storia molto bella e goditi il tutto anche da solo in compagnia non importa l'importante è che giochi quindi spingeranno ancora di più sul prendere il giocatore single player perché sostanzialmente il gioco single player esiste ancora esiste però vuole essere portato multiplayer cioè il gioco è solo single player lo compro lo finisco pochi pochi ormai la norma è un gioco in molti casi è un single player con l'opzione multiplayer sì però nella maggior parte dei casi è un multiplayer che forse ti dà un'opzione single player sì vogliono la mezza via è il The Division è il game e service cioè un gioco che tu te lo prendi però poi se vuoi continuare attenzione che io ti continuo a mandare avvisi di nuovi contenuti te lo voglio e questa è Ubisoft credo che sia la regina in questo genere e io apprezzo non sono assolutamente uno di quelli che è contro Ubisoft l'ho sempre difesa vedo che è davvero difficile trovare chi è dalla mia parte ma fa brand che hanno una vita molto lunga e a costo di sbagliare qualcosa perché non ha paura di sbagliare però tiene un brand in vita cioè io sono contento con The Division mi dura i tre anni che è un costreco non ho niente contro Ubisoft forse è un po' ripetitivo cioè continuare a fare sempre lo stesso gioco se c'è uno sviluppatore una casa che mi sta sulle balle è l'Electronic Arts dell'EA secondo me è veramente malvagia malvagia in mano gli sportivi il Battlefield e purtroppo il Dragon Age e Mass Effect giusto? sì è Anthem cioè la monetizzazione selvaggia perché in FIFA se andiamo a guardare ma Anthem qual è il problema? il problema di Anthem non è stato il modello allora non l'ho giocato ok però l'ho visto tutte le problematiche e tutto il resto voleva essere un The Division va bene il problema è che non hanno preso il team che lo sapesse fare cioè hai creato un looter shooter ma non hai saputo costruire il loot e poi non c'erano i contenuti loro volevo fare un mondo persistente senza contenuti che è la regola basilare di un mondo persistente per tenere un giocatore in questo mondo gli devi dare qualcosa da fare vero devi avere continuamente delle cose da fare e devono essere anche diverse tra loro cioè la ripetitività va bene ai coreani che a loro piace quindi dare ma poi ripetite attenzione in un mondo per esempio tornando un attimino a Black Desert davvero dovevi uccidere 4.000 persone ma in un'area vastissima e fatti fuori quelli il premio era do cosa vedere un qualcosa di incredibilmente bello ok una razza incredibilmente nuova e quindi tu venivi appagato in Anthem dietro l'angolo c'era ancora l'angolo non c'era molto di più giusto era molto bello graficamente Anthem però non avevano messo roba dentro non c'era c'erano tipo 3 dungeon mi sembra anche i nemici cioè non hanno sfruttato la verticalità al di là di volare tipo Iron Man non c'era non hanno sfruttato la verticalità che ti dava il gioco no? la possibilità era solo una cosa grafica che ti esaltava le prime 5 minuti la prima settimana no? e poi un gioco pensato per essere giocato sempre e dopo la prima settimana ti eri rotto le balle sostanzialmente e quindi come faceva io ho visto anche problemi gravi di gente che dimostrava che con un'arma bianca facevi tanto quanto un'arma epica c'erano anche problemi proprio tu lo sai che non so se hai visto al trailer della 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 lingua la fiera dei videogiochi ah ok eh si vabbè le tre le tre ok le tre tra l'altro sono stato per una volta un non è quello di quello di Berlino non si chiama e3 gamescon dimmi gamescon gamescon bravo sono riuscito a è una cosa da fare una volta nella vita non mi è mai capitato al massimo sono andato al kartoumix è davvero una volta sola ma fantastico proprio un soldi su soldi in stand tra l'altro era l'anno uscita play 4 contro xbox e in fiera fu proprio percepivi che la play ne aveva dieci volte tanto anche solo in stand proprio in presenza massiccia alla fine ha vinto la play si era l'anno dell'uscita di the division tanta no neanche di uscita la solo la presentazione uscì dopo più di un anno si aveva fatto l'errore l'xbox di dire che la loro console doveva essere sempre online che tra l'altro adesso è così però loro hanno fatto l'errore di annuncio si era proprio presto annuncio e dicevi che trailer hai visto delle tre quello di Anthem no ah ok il trailer ed era fantastico no sembrava tutto c'era scritto queste sono immagini di gioco si c'era scritto in molti altri c'era lui che spostava la tenda no si vedevano gli effetti sulla tenda sembrava vera i personaggi che ti parlavano sembrava un film interattivo no si lui che passava nella foresta arrivava un dinosauro che ammazzava altri nemici c'era in realtà quel trailer magnificente era stato fatto tipo una settimana prima ed era era stato assemblato per presentare qualcosa ma non era il vero gioco ce ne sono di storie ragazzi non avevano ancora il gioco con tipo 20 pc c'era la playstation di plastica con dentro niente e dietro c'era un rack con 20 pc in parallelo storie veramente dell'altro mondo chissà quante volte è capitato che il trailer infierà imbrogliato però in questo caso Anthem non aveva è un gioco che è stata una truffa possiamo definire perché doveva essere un gioco che doveva essere destini sostanzialmente esatto tu pagavi un pass un must di pass non so come viene un battle pass non so 5 euro 10 euro 20 euro e poi potevi giocare quanto vuoi avevi contenuti gli aggiornamenti i vari eventi lo potevi prendere singolo pagandolo 70 euro oppure c'era questo nuovo pass della IA che te lo dava a 20 euro però iniziavi un abbonamento era un lancio di pubblicità dei game service che ci sono oggi però poi sostanzialmente il problema è che il gioco ti prometteva dei contenuti ma in realtà non ne aveva abbastanza al lancio quindi insomma tu ci sei cascato diciamo non sono quindi eh sì non l'ho non l'ho preordinato ma ma ci sei caduto con tutte e due le gambe capita capita insomma mi è successo a molti mi ha fatto rosicare perché io ero ero un fan di di Bioware si veniva tra l'altro da Bioware quindi ci si aspettavano grandi cose ho giocato Dragon Age tutti tre era molto fuori dal loro cioè quando uno studio cambia totalmente genere seriamente fare un looter shooter deve essere una roba devi calcolare c'è deve essere tante di quella matematica dietro a un looter shooter perché tu devi appagare costantemente l'utente dandogli sempre un'arma più potente possibilmente esteticamente diversa e possibilmente di varie categorie cioè quindi immagina il calcolo che devi fare in base al livello dell'utente il livello dei pezzi di armatura che ha addosso i livelli di armi e le combinazioni della build e poi devi bilanciare la cosa perché dopo che hai fatto tutto questo devi anche bilanciare perché poi capita che c'è un'arma che è più forte di tutte le altre e tutte le altre armi non hanno più senso di esistere questo era per dire che tu non puoi improvvisarti programmatori di un looter shooter se non ne hai mai fatto uno ok anche un pochino il problema di cyberpunk questi venivano da un gioco che in terza persona passi alla prima quindi già da mandare delle spade mi fai sparare quindi devo mirare insomma già non è la stessa cosa ma quando fai dei salti così esagerati ti viene il dubbio se non prendi un team già navigato che sa fare solo quel genere lì spostarsi di genere è tosto è diventato complesso fare videogiochi non è più come dieci anni fa questo ne può tra virgolette giustificare il prezzo tu confronti Dragon Age la grafica di Dragon Age con quella di Anthem per farla non ci vuole allo stesso tempo no e oggi la grafica è importante però magari ci vuole meno fare la grafica che appunto bilanciarlo vorrei che si perdessero troppo in grafica il bilanciamento noi che siamo giocatori di Magic lo sappiamo bene è importante ed è una parte che viene tralasciata ecco il beta testing dovemmo fare una puntata sul beta testing beta testing siamo noi che non esiste più non esiste più la professione di beta tester sostanzialmente ma no perché perché devi pagare dei beta tester quando ce li hai gratis no c'è gente che paga early access per testarti il gioco esatto siamo passati dall'early access al darti il prodotto incompleto toglierti le future insomma abbiamo assistito appunto a cyberpunk come a no man sky io tra i due però ho preferito no man sky indignata la gente però loro sono stati zetti hanno preso su hanno lavorato e ti hanno restituito il prodotto in ritardo con le future sì anche la storia di final fantasy 14 ah giusto sì e infatti anche loro pensavano di fare la stessa cosa di dire ah ma adesso ci lavoriamo e vi facciamo vedere io credo che si dimentichino anche di quanto un videogiocatore possa alla svelta terminarti il gioco e sbattarti online i difetti cioè tu immagina che ci hai messo anni per farlo poi lo lanci e la notte che l'hai lanciato c'è un tizio che ti scrive ti dice guarda che sono a livello 100 non so più cosa fare e arrivò gli miei soldi e tu che cosa gli dici cioè quello è il caso estremo di gente che non si sa in una settimana ne hai un milione di giocatori che ti scrivono non so più cosa fare perché al giorno d'oggi si dimenticano del fatto che uno può prendere il gioco buttarcisi dieci ore al giorno finirlo rompertelo perché magari hanno trovato la build che tu non avevi specialmente in un gioco di build perché poi se tu crei al di là ritornando alla matematica un gioco come Anthem si basa sulle build se io non posso fare più di tre build mi incazzo ok è così e in più ti richiedo nuovi contenuti ti chiedo di darmi nuovi contenuti settimana prossima però loro gli avevano promessi loro ti avevano detto gain likes no quindi sempre online sempre persistente sempre contenuti però ricordiamo che MMO era solo una scusa stiamo parlando di online a 360 gradi si poi noi siamo così partiamo da una cosa e arriviamo no ma è giusto ci serve la scintilla e poi rimaniamo comunque ci sono esempi di fallimenti negli MMU ma che poi hanno recuperato come ad esempio Fallout 76 che era diventato il meme di internet poveretto io lo apprezzo e adesso è giocabile mi dicono io non l'ho ancora provato però anche Elder Scroll ha recuperato tanto si Elder Scroll e cosa è che avevi detto Final Fantasy 14 però per esempio Final Fantasy 14 lì il team si è messo seriamente aveva comunque una guida un game designer che sapeva cosa voleva fare come risolvere i problemi in giochi come Anthem era nuovo lo sbando perché era un gioco che avevano una base solida 76 aveva alla base prendendolo all'inizio super buggato aveva davanti un mondo immenso con centinaia di ore dove il problema erano i bug e che non c'erano NPC esatto ma io allora io l'ho vissuto nel momento non NPC quindi io l'ho acquistato nel momento calante quando arriva a 20 euro ho detto lo prendo perché voglio provarlo non è possibile che Fallout sia sceso a 20 euro in tre settimane ok l'ho provato e a me piaceva allora lo trovavo survival era un altro gioco perché non sentivo l'assenza degli NPC io no perché comunque il mondo era pieno non era era molto vario e è tuttora è lo stesso mondo che io giravo sentivo gli spari degli altri giocatori non mi hanno mai dato fastidio e l'ho vissuto molto single player cioè mi sono focalizzato sul mondo le quest me le davano dei robot ok la trama aveva perso molto ma ne aveva acquistato molto la paura dei tre colpi che avevi in canna cioè era era cattivo il gioco cioè il cattivo era proprio survival tic gavi addosso al minimo rumore perché dici io qua ho tre proiettili in mezza fiaschetta d'acqua questo gioco continua a dirmi che ho sete ho fame che ho le radiazioni diventa tosta ok poi trovi un angolino ti costruisci la casetta e dopo torni dopo mezz'ora ti sia mezza smontata un po' perché è passato di sfiga un nemico un po' perché ti sia deteriorata di roba da fare cioè di tempo prima di arrivare a pensare che non c'erano gli NPC ce n'era adesso non l'ho più provato perché ho speso tante ore all'ora e non sicuramente è più bello non era così da cattivare cioè da incattivirsi il pubblico si incattivisce troppo ecco il punto è che fallout c'ha un grosso zoccolo di fan no ma tanti fan che vogliono sempre quel fallout lì si e loro invece volevano puntare al pubblico dei survival giusto? si e volevano fare un survival ambientato nel mondo dei fallout multiplayer si non so bene a cosa puntassero così però hai scontentato tutti e lì è la mancanza di visione di chi ha il brand e chi del game design no? si e oltretutto loro non hanno nemmeno quel pregio grafico da dire cavolo imbambolami con la grafica così non mi accorgo un attimino dei difetti ma io utente già arrivo e mi ritrovo il solito vecchio motoro grafico con i soliti il goal è lo stesso che vedo da dieci anni ok? non mi hai proprio distratto mi hai fatto in modo che l'utenza si lamentasse da subito si è stato da quel punto di vista lì hanno fatto al risparmio il motore grafico di fallout elder scroll è sempre quello però era bellissimo tipo nel 2008 adesso siamo nel 2020 seppur aggiornato ha un sacco di difetti è baggatissimo prima di tutto e ogni gioco che esce ci mettono sempre qualche mese a sistemarlo da quel punto non so se hai giocato a fallout 4 ma ha vissuto la stessa cosa non sono riuscito a finire non mi ha stufato ormai si è perso un po' per lo stesso motivo dopo un po' ma poi la trama non era il massimo aveva perso ma poi ok tu hai fatto fallout 3 lo hai finito sei entusiasta ti esce new vegas che comunque era di un altro team quindi si sentiva un'altra impronta quindi non riesci a sentire la noia dopo il new vegas torni ancora il 4 e dici vabbè parti che la grafica è leggermente più carina c'è questo robottino simpatico bla 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 però dopo ti ritrovi nel solito fallout un po' un errore che mi ritrovo anche con io non riesco più ad apprezzare borderland mi piaceva tantissimo ma mi ritrovo sempre lo stesso gioco con centinaia di armi sempre i soliti nemici da sparare certi brand credo che prolungano troppo forse speriamo in elder scroll perché è davvero passato tantissimo ecco lì Bethesda non può sbagliare cioè ci devono dare qualcosa di diverso dobbiamo aprirlo e dire ah è diverso e non voglio vedere più lo stesso motore grafico no anche perché io non sopporterei più l'impatto dell'arma quella brutta sensazione dell'impatto me l'avevi detto con Vermintide che avevi questa sensazione dell'impatto ed è comunque un gioco vecchio col motore grafico di fallout elder scroll non c'è sono bruttissimo sono tipo delle carezze che si danno il peggio di tutti è quello prima di Oblivion Morrowind io ho provato molto in ritardo e l'ho dovuto mollare perché non capivo quando colpivo i nemici ti giuro che ero in Bragli mi sentivo scemo diciamo è un errore grafico sono io non ho il computer adatto non capisco quando colpisco il nemico come si fa a giocare prendo le difese di Morrowind che comunque è un gioco del 2002 sì è che io l'ho giocato tardi capito l'ho giocato oggi perde tantissimo perché comunque sapevo che era bellissimo io venivo da Oblivion sai ma prima di Oblivion non avevo Oblivion è arrivato su console Oblivion probabilmente ha una grafica migliore è tutto migliore anche come movimento impatto ma come storia secondo me Morrowind infatti avrei voluto apprezzarlo non sono riuscito era un altro enorme con tutti i DLC bellissimo era un mondo infinito purtroppo sì non ho potuto apprezzarlo ecco per colpa di questo gameplay non sono uno che si tira indietro a fare un vecchio gioco ma lì mi bloccava o poi sai a volte anche il momento sbagliato non saprei negli action l'impatto delle armi comunque la sensazione deve esserci se no non crolla tutto è perché è quello che ti dà l'idea del danno se tu fai un RPG alla Diablo è il numerino che tu vedi che non te ne frega niente dell'impatto sei talmente alto ma in prima visione se io mi paro con lo scudo e tu mi tiri io devo capire che sto parando sto colpendo sì sì deve dare una risposta ci colleghiamo con in chiusura con qualche film visto che cerchiamo di spaziare dal videogioco online io il mio pensiero che volevo dare è che ormai l'MMO si è evoluto nella nostra vita di fatto perché siamo una massa apparenemente online so che fa molto filosofico però se ci pensate un attimo se ci si spegne il telefono o un apparecchio cioè chi è che oggi sta una giornata intera offline nessuno ma neanche mio padre che ha quasi 60 anni comunque quindi siamo noi l'MMO ormai con Whatsapp ad esempio siamo tutti sempre online no? sì basta avere un profilo facebook e sei online basta andare su youtube a vedere un video e sei online quindi internet ormai è entrato già da mo forse non ci siamo neanche accorti è una costante a mano con la tecnologia è passato da dall'essere ti ricordi il vecchio cd il modem che scattava quelle cosine che avevano solo i più i più alcune zone ormai copre tutto se si vivi in un posto sperduto c'è un satellite è qualcosa che ti aiuta comunque ad avere internet sì ma comunque tu è una discriminante quando compri una casa o comunque usi una cosa che tutti vogliamo adesso una connessione migliore noi cerchiamo modi di di ottenerla tutti aspettiamo magari abbiamo un abbonamento incredibile vedete e si ma perché se tu dovessi pagare un abbonamento solo per il telefono l'avresti già staccato da no o no si si assolutamente quindi siamo sempre connessi quindi ti lancio qualche film che è difficile di magari pensare al al multiplayer al anche se in realtà adesso mi è venuto in mente quel film oddio è famosissimo quello di dove devono tutti combattere uno per distretto no Matrix no dove c'è la protagonista la ragazza e praticamente c'è questo mondo dove deve sacrificare una persona all'anno per mantenere la pace e lo diremo poi nel focolare della prossima puntata ci sono tanti argomenti vi racconto il plot così ogni distretto deve offrire un campione a fine stagione e questi campioni la protagonista è femmina e fa questo gesto con le dita eh si è tipo tratto da un libro esatto a una trilogia o quadrilogia comunque morale quello è un multiplayer cioè un survival survival multiplayer non non forse di massa però un po' il tema è questo collegare i film con con i gruppi di persone che devono affrontare un una sfida sì no di film tu hai fatto una lista ce ne sono diversi ready player one è quello più più massive multiplayer proprio il film in sé è un videogioco di fatto cioè queste persone vivono tutto il giorno con un visore attaccato o meglio corrono a casa a mettersi il visore perché vivono nella povertà e grazie al visore possono entrare nel nel loro nel loro avatar e vivere questo mondo immenso e lì sono davvero tutti connessi in un unico mondo anzi in più mondi perché è un universo dove tu scegli voglio andare a fare lo sparatutto voglio andare a fare il gioco di corse voglio passeggiare in questo mondo quindi proprio quello è perfetto per il massimo multiplayer vivi una vita migliore rispetto a un buon film un buon film perché ti fa vedere anche il fuori la vita reale che è tutta molto difficile ci sono queste due grandi corporazioni quindi lo si può consigliare poi è ricco di elementi anni 80 insomma quindi di cosine carine ottimo e cos'altro ti posso consigliare ho scoperto questa cosa mentre cercavo beh c'è il film di warcraft che più che multiplayer diciamo che è un omaggio al gioco quindi non lo si può che riportare io l'ho visto carino un buon fantasy non non ho più sentito notizie riguardo al al continuo mi aspettavo un un filone pesantemente proposto invece ormai sono passati anni credo dal film fan service proprio puro io non sono conosco i personaggi più per arson forse che per world of warcraft perché comunque sono passato anche da lì sì probabilmente una botta e via e prendono quello che riescono a incassare magari sono film fatti anche per pubblicizzare i giochi da un certo punto di vista eh sì sì invece voglio prendere l'occasione di questo articolo appunto che ho letto cercando di portarvi qualche film multiplayer per questo questo concetto che ho trovato di Pug che è pick up groups in pratica loro dicono che è multiplayer il film in cui un gruppo di sconosciuti si trova per affrontare un un pericolo ok e quindi prende il vecchio film The Cube questo film di fantascienza dove ci sono dove c'è un cubo enorme scoprirai insomma sì c'è un cubo fatto da tanti cubi e ogni stanza è un enigma quindi un po' un show fantascientifico e queste persone si devono aiutare un po' con le loro abilità un po' con il sacrificio a passare da una stanza all'altra ma mi premeva di più consigliarvi perché sai comunque The Cube è un film di nicchia fantascienza potrebbe piacervi non piacervi è una trilogia tra l'altro mi pare dallo 0 al 2 o dallo 0 al 3 ma c'è su Netflix Alice in Borderland che ti consiglio Phil viene da da un manga ottimo me lo sono visto tutto d'un fiato e brevemente il concetto è lo stesso le persone si risvegliano nella loro città mettiamo Tokyo adesso non ricordo però questa città è vuota apocalittica ma di fatto in realtà è come una realtà parallela cioè loro vivono questa realtà dove c'è la loro città ma è vuota e appaiono di notte dei numeri con dei palazzi delle indicazioni e quando arrivano al palazzo c'è una prova da affrontare e ne va della loro vita quindi ci sono diverse prove tipo di prove coraggio forza gruppo e le possono passare aiutandosi o tradendosi diciamo lo scopo è arrivare in fondo per poter vivere altre n giornate in base alla carta in base alla difficoltà perché è basato sui colori delle carte quindi picche cuori fiori quadri quindi da lì il riferimento da lì esatto esatto e questa è la trama non vi spoilerò come continua vi do solo l'elemento delle carte e del prove quindi un un show un cube continuo ok giorno dopo giorno gruppi che si creano e si distruggono perché ovviamente la gente è piuttosto violento bello ha avuto parecchio successo davvero volete vedere subito la prossima stagione io adesso me lo metto subito in lista e finalmente ho qualcosa di interessante da vedere su Netflix anche i cube per chi ha la pazienza di apprezzare un qualcosa a basso budget perché immaginatevi che erano film a basso budget mentre Alice in Borderland è una produzione di Netflix ormai Netflix X soldi di caccia ritroverete tante tante analogie sì e sarebbe anche un argomento da trattare Netflix le produzioni Netflix che ruolo hanno nella filmografia e come si trova la roba su Netflix io delle volte trovo dei telefilm che sono nascosti mi passano in pubblicità un giorno e poi non li ritrovo se non li avessi guardati in quel momento lì non so più come ritrovarli io a volte non capisco come ragiona mi fa impazzire ad esempio io sono rimasto infognato con le serie tv coreane e ce ne sono per esempio a me non le propone e andarle a trovare perché lì è tipo un algoritmo si basa sui tuoi interessi se tu guardi non so film d'amore ti proporrà solo film d'amore se guardi film apocalittici ti proporrà tutto ciò che è legato a quello è interessante comunque ci scambiamo appunto adesso io Alice in Borderland spero che a qualcuno abbia fatto suonare un campanello ma ha avuto il suo successo credo che comunque ci sia fatto sentire però ne ho altre da condividere secondo me anche tu Phil appunto che scoprirete di averle sotto mano ma che non vi erano mai apparse sì anche perché tu in questi giorni no che siamo rinchiusi in qualche modo abbiamo anche bisogno di guardare e da questo punto di vista Netflix devo dire che ne ha giovato parecchio sì 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 lo stesso Disney Plus sono convinto che io non ho apprezzato ho avuto occasione di provare ha avuto una fortuna nella sfortuna del mondo perché guarda caso è stato lanciato un mese dopo la pandemia della serie uno potrebbe scriverci una storia di fantascienza Disney cospirazione dopo la pandemia cioè l'ha lanciato nel momento perfetto e sono convinto che abbia avuto che ne so 200% di abbonamenti in più di un'altra situazione normale è chiaro che tutti siamo alla ricerca di qualcosa da vedere intrattenimento che la televisione non può più offrire no ve lo diamo noi con la nostra voce internet o trovate contenuti gratuiti come il nostro perché noi lo facciamo per passione ma sostanzialmente film serie tv ci sono i siti di streaming illegali ma la qualità è pessima no io non mi ci sono mai messo sono i virus sto diventando prigro ho bisogno di un prodotto che cerco e trovo successo ma si ma poi voglio godermelo un film non voglio che un pop up con un virus si apra ogni due secondi esatto chi ti dice no ma quel sito lì è perfetto o secondo me sei semplicemente abituato a schivare quei 400 pop up al secondo che ti appaiono e quindi per te è normale ma io veramente no ecco da questo punto di vista qui il futuro probabilmente questi siti di streaming andranno a scomparire si credo che è come la pirateria dei videogiochi i prezzi il free to play tutto il darti il prodotto onesto uccidono la pirateria secondo me non siamo soprattutto crescendo non ho più voglia di andarmi a cercare è vero le crack le cose anche perché non ce la farai mai oggi mi stanco mi stanco subito no io voglio scaricarlo il mio gioco giocarlo tranquillo sereno senza problemi ed è questo credo che anche Epic Steam meno PlayStation ultimamente insomma ti vogliono regalare i giochi per attirarti per darti attenzione che qui vogliamo che tu stia comodo vogliamo che tu passi tutte le settimane tanto a loro cosa costa su migliaia di titoli regalartene uno e poi te lo regalano per quel tempo lì ma avete idea di quanta gente si scorda non lo prende lo viene a sapere in ritardo non è che perdano poi chissà quanti giochi ho comprato che mi li avrebbero regalati quindi esatto poi una volta che un gioco ho venduto un milione di copie il gioco si è già pagato quindi se ne regali qualche copia anzi fai pubblicità fai pubblicità fai pubblicità perché vendi il DLC vendi vendi una copia dopo che è scaduto il periodo di prova gratuita cioè di prova ecco io non riscatto più le prove cioè non voglio infognarmi una settimana in un gioco sono rare ma quando lo regalano dico è scaduto il mese in cui lo regalano tu comunque al tuo amico dici cavolo quel gioco lì era bello e lui ti dice ah io non ho fatto in tempo a scaricarlo ah ma tanto ormai costa 10 euro me lo prendo quindi guadagnano è pubblicità è il giusto modo di fare pubblicità sì il futuro è sostanzialmente sempre meno contenuti cioè comprare la scatola quel gioco sempre più o un sistema free to play in cui in un mondo persistente sempre online come un servizio compri dei contenuti aggiuntivi delle skin oppure paghi un prezzo magari ridicolo e comunque lo vai a giocare poi hai dei contenuti di lsi da scaricare a pagamento oppure l'importante è non imbrogliare cioè se tu mi fai un'offerta mi devi mantenere il prezzo e l'offerta se è un'offerta a tempo me lo devi dire chiaramente cioè Netflix domani non può passare da 10 a 30 euro deve rimanere onesto perché non ti ha mai detto che era un'offerta temporanea ci deve essere chiarezza quello secondo me è successo sì e poi dovremmo anche parlare di Disney che tu l'hai tirata in ballo sì non mi è piaciuto non mi è piaciuto povertà di contenuti per un anno intero per un anno è tanto un anno intero di povertà di contenuti si è buttata fuori adesso è dovuta ricorrere a un 18 più quindi tu passi sblocchi la parte diciamo dove puoi vedere Alien cose che non sono più Disney ha tenuto botta un anno con roba solo Disney e adesso che uno si può anche essere stufato di aver pagato per un anno intero mi dai finalmente un contenuto un po' più decente sto pensando il fatto che da roba che Netflix non ha perché ti da roba vecchia e Netflix tende a non dare roba vecchia si ma poi il fatto che Disney i contenuti Disney solo Disney sono un po' limitati un anno intero ho visto cioè in un mese c'erano mesi in cui non usciva niente e mesi in cui usciva un titolo contro Netflix che ogni mese ne deve cancellare perché non ci sta da un certo punto di vista sono persino scontento di Netflix perché non escono abbastanza novità quindi non posso immaginare come tu abbia resistito con Disney no ho resistito perché era un gruppo e quindi familiare quindi assolutamente ci stava comunque per i bambini magari non avrei smesso subito se ero da solo ecco sì ti dà l'opportunità di fare il gruppo di dividere la spesa chissà come Amazon Prime come si chiama io mi sono messo contro di traverso ad Amazon in tutto ho tolto Prime ho tolto tutto ho fatto i miei esperimenti la roba mi arriva uguale sei contro Amazon? sì da quando mi ha io è il concetto di prima mi hai cioè io sono uno molto sono io ragazzi quindi non è che dovete fare battaglia ad Amazon ma se tu non sei onesto con me io mi incazzo e Amazon non ha mai detto che era un'offerta quella che stavamo pagando di prima che era 13 euro ha raddoppiato o più del doppio da un giorno all'altro dicendoti eh ma ti do la musica e i film ma io non te li ho chiesti ok quindi io voglio continuare a pagare i 13 euro e quello che mi ha dato fastidio mi hai raddoppiato senza dirmi che prima era un'offerta e quindi di conseguenza se prima non era un'offerta non esiste al mondo che un prezzo raddoppia aumenta ma non raddoppia da un giorno all'altro quindi l'ho tolto ok perché non ero interessato né alla musica né al al video ok esatto perché ti ha regalato cioè io non li voglio ok se non li voglio perché sono costretto a pagarli quindi di conseguenza già mi fa arrabbiare che non è vero che me gli stai regalato poi eh ho fatto la prova io ogni volta che prendo qualcosa clicco 100 volte no non voglio Prime sì sono sicuro di non voler Prime e la roba mi arriva il giorno dopo lo stesso sì ma anche io quando compio su Amazon quindi perché devo pagare Prime cioè io sono sono convinto che al magazzino quando parte la merce non devono non dicono ah guarda che questo è quello stronzo che non ha pagato quindi mettilo da parte che lo spediamo domani a parte magari alcune cose che non sono in Italia però ormai è così certo ma magari roba che non aveva comunque il bollo Prime non ti arrivava lo stesso non lo so sì no ma effettivamente io non ho mai voluto fare Prime perché mi non faccio non faccio così tanti acquisti da dire cavolo lo voglio domani e tutto il resto quindi però io noto che molte volte mi dice arriva tra dieci giorni invece dopo due giorni è arrivato lì è una tecnica perché a loro praticamente gli costa uguale una spedizione ma certo ma poi capirai ma figurati se dovessero creare un sistema che crea dei ritardi per farti capire che è meglio avere Prime cioè da pazzi già hanno da gestire tutte quelle spedizioni sì sì per loro fa differenza probabilmente sei tu allora stanno migliorando torniamo a non voglio che la mia battaglia di principi no ma ti appoggio io sono contro le multinazionali quindi faremo poi una puntata sulle multinazionali sì così dobbiamo trovare un'altra piattaforma perché nemmeno YouTube accettarà il nostro podcast dobbiamo fare una puntata sul cyberpunk bello bello sì sulle corporazioni perché il cyberpunk è quello sostanzialmente è un futuro di degrado dove ci sono tecnologie molto avanzate ma si vive in maniera privati della libertà e dove i governi sono e Blade Runner dai Blade Runner ci arriveremo ci possiamo arrivare i governi sono sostituiti dalle megacorporazioni che sono talmente ricche e potenti che decidono e che hanno sempre loghi giapponesi non sappiamo perché anche se la megacorporazione sta in Europa ha un logo fighissimo al neon in giapponese perché i cinesi sono due miliardi adesso chissà nel futuro quindi è per quello tu dici che nei film già negli anni 80 c'erano i loghi in giapponese la lingua del futuro non è la nostra sicuramente va bene va bene niente quindi abbiamo spaziato abbiamo spaziato veramente tantissimi argomenti questa puntata altrimenti questo livello diventa troppo troppo lungo per voi e dovete arrivare al prossimo Focolare dai comunque complimenti avventurieri l'avete terminato buon riposo buon riposo e ci vediamo al prossimo al Focolare ecco al Focolare questo era il Dungeon Bird Podcast e vi salutiamo ricordatevi i nostri social noi parliamo tanto come vedete non vi disturbiamo però se non mettete la campanella poi vi perdete l'appuntamento e noi abbiamo lavorato tanto e arriviamo a meno persone quindi like al video ecco commentino se avete qualcosa a dirci commenti sia su YouTube sia su nella community di Discord dite la vostra a noi fa piacere sentirla magari ci proponete qualche idea Instagram ovviamente così verrete aggiornati quando uscirà la nuova puntata e ovviamente iscrizione a YouTube sì vedrete che Instagram vi tirano fuori qualche chicca quando arriviamo le puntate proprio a tema qualche foto vera ci saranno dei contenuti collegati al video ma aggiuntivi che comunque metteranno l'esperienza esatto troveremo qualcosa di particolare da farvi vedere anche lì di modo che sono complementari non sono nulla Discord YouTube e Instagram non saranno mai la copia uno dell'altro sì aggiungono aggiungono l'uno all'altro allora vi salutiamo per davvero al prossimo Focolare al prossimo video bye bye